Sembra volere volare, sembra volare. Amici del Piemonte, mettetevi comodi e godetevi insieme a noi Volere volare per una Liguria fuori dal comune. Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre 2024 Prima edizione di Valle San Lorenzo Expo Otto Borghi in Festa, San Lorenzo al Mare, Capofila 2024, Cipressa, Civezza, Costa Rainera, Pietra Bruna, Bosco Mare, Lingueglietta, Torre Paponi. Promozione del patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico di Valle San Lorenzo e dei suoi cinque comuni e otto borghi. Tutti nel Jukebox ad Andorra. Si sono appena spenti i riflettori della seconda edizione. Una breve sintesi di questo grande evento musicale. Buonasera a tutti, sarà una serata di musica, di divertimento, di condivisione, tanti artisti. Non vediamo l'ora di cantare tutti insieme. Cento lire nel Jukebox. Questa è l'ultima invenzione di Luca Galtieri e Marco Dottori dell'agenzia Eccoci e ci riporta con il Jukebox a quei tempi, ma stanno già pensando a come sarà il Jukebox del futuro perché è uno strumento che non vogliono abbandonare. Guarda che con cento lire me ne davano tre di canzoni. Ecco, lo sapevo, vedi. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Diciamo che oggi i gusti sono un po' cambiati, però vedo che anche i giovani, quando io vado a fare i spettacoli, gradiscono le cose che faccio. Abbiamo ricreato un vero Jukebox dove si inserisce le cento lire proprio fisicamente, si illumina la canzone come nei Jukebox, gira il disco come nei Jukebox. Una nuova fantastica. Ed il mio orgoglio lo lascerò sfogare, ti lascerò vivere, ti lascerò ridere. Per me la Liguria in generale rappresenta tante cose belle, ricordi meravigliosi e soprattutto Franco Basano che è un mio carissimo, è un fratello per me, non è solo un amico. Con le pinne, uccide d'occhiali, quando il mare è una tavola blu. Io amo i voti, io amo i voti, tantissimi negrini, ogni tre passi, ogni tre passi, facciamo sei metri. Noi l'avevamo voluto l'anno scorso, purtroppo ha avuto un piccolo incidente, però ce l'abbiamo fatta, quest'anno l'abbiamo portato il re del Jukebox. Bene, grandi complimenti e grazie per le emozioni che ci avete regalato questa sera e tutta la sua grande carriera. Grazie mille. Grazie a tutti. Che finì il mondo per un capello biondo che stava sul gilet, abbronzatissima, a due passi dal mare, come dolce sentirti respirare con me. Cioè, dopo Uvianello abbiamo il panico, chi possiamo chiamarlo Uvianello, ragazzi, da Andorra? Vabbè, ci lavoreremo. Tutti alla Igueglia per la fiera di San Matteo dal 20 al 22 settembre. Fiera della tradizione, sport, mare, artigianato, terra e denogastronomia. In uno dei borghi più belli d'Italia. Adesso il piatto del giorno del Macambich. Per una Liguria tutta, mmm, da gustare. Buongiorno a tutti, oggi dal Macambich vi raccontiamo il nostro piatto del giorno eseguito dal nostro chef Andrea. Tentacolo di polpo su vellutata di piselli con crema di burrata e pomodorini confit. Tentacolo di polpo su vellutata di piselli. Continuate a segnalarci i vostri eventi. a info.imperiatv.it a visitare il nostro portale www.imperiatv.it per una Liguria fuori dal comune Ciao!